Quando annunciarono l'anime del ragazzo che si reincarna in un cane, sinceramente non avevo aspettative. E quindi, senza aspettative, come potevo rimanere deluso? Ci sono riusciti, ma andiamo con ordine. Perché questo studente si reincarna in un cane? Per il momento non c'è dato saperlo. Presagisco qualcosa dalla tizia in camicia in stile scienziata che si vede in la opening, ma, detto sinceramente, anche quando diranno il reale motivo del perché si sia trasformato in un cane, penso che comunque la trama non si infittisca più di tanto per quello che effettivamente va a proporre. Parliamo di questa ragazza che, tornando sulla strada di casa, si ritrova davanti al nostro protagonista e decide di prenderlo con sé e di accudirlo. Il tutto sembrerebbe un qualcosa di normale e di tranquillo, ma non fatevi fregare. Innanzitutto, la prima particolarità è che questa ragazza si dimostra affettuosa unicamente col cane, mentre si pone in maniera fredda con i compagni di classe e caccia una faccia da yandere a satanata persino con sua madre. Come vi dicevo, io non avevo alcun tipo di aspettativa perché credevo fosse il classico anime comico-demenziale che se la cava con le gag e via, 20 minuti passano più o meno velocemente. Ma già quando ho visto la durata dei 12 minuti di episodio ho pensato Manca lo scheletro, mancano le ossa, mancano le colonne portanti di una trama che di fatto non c'è e quindi persino 12 minuti, compresi di opening e ending, erano difficili da cacciare. Dato che le fondamenta sono costituite da poroso fanservice molto poco stabile. Parliamo della protagonista che mi sta antipatica a pelle, già solo per il nome Karen che mi fa pensare appunto alle donne di mezza età rimbambite a cui non va bene assolutamente niente. Tra le tre proposte che ci vengono mostrate nella opening, esclusa la rosa che neanche mi fa impazzire, quella più croccante sembrerebbe proprio la bionda che di fatto è l'unica intelligente e lo capiamo perché letteralmente fugge dalla opening. Però della bionda sembra apprezzare pratiche BDSM, un grande malus però, c'è solo una cosa che io odio più del dentino, il classico dentino che viene messo spesso alle loli ma non solo negli anime, il dentino di carne. Questa specie di labbro leporino o comunque deformazione facciale che non capirò mai ma che a quanto pare piace particolarmente ai giapponesi, quasi più del dentino stesso, il dentino di carne, questa metamorfosi della donna del terzo millennio che però sinceramente mi fa vomitare. L'episodio parte come vi dicevo con questa protagonista dotata nel suo incredibile ventaglio di qualità di queste oppai a punta che tanto mi ricordano la carta Siluro Killer in una espansione di risico a cui giocavo. Karen quindi prende questo cagnolino salvandolo dal freddo e da un acquazzone e secondo voi qual è la primissima cosa che una persona normale farebbe quando porta a casa per la prima volta un povero cucciolo. Lo fa bere e gli fa mangiare qualcosa? Magari di caldo? Lo asciuga essendo bagnato fradicio? Oppure avete presente quando c'è quell'irrefrenabile voglia di prendere un povero cucciolo per strada e iniziare a strusciarvelo nelle vostre parti intime? Esatto, proprio quello. Poi ci credo che le multinazionali dell'igiene intima si fanno i milioni, voglio dire, spero che quel cane avesse delle zecche grosse così in modo tale che Karen ce la giochiamo in pochi episodi. Tra l'altro io ho visto la versione censored, esiste anche la versione uncensored, ma di fatto queste chiappone lucenti in cui tranquillamente ci potremmo specchiare non cambiano in nessuna delle due. C'è solo qualche censura abbastanza inutile al seno, seppur anche nella versione uncensored rimangano alcune fasce di luce o talvolta degli incredibili vapori che si generano così a casaccio, anche in ambienti aperti a momenti. Questa psicopatica comunque, mentre lo strofina nelle sue parti intime, si meraviglia che come lui si muova, lui voglia quasi di vincolarsi, e che fa? Blocca la coda del cane, che penso sia una delle cose più fastidiose che un cane o un gatto possano ricevere. Per i successivi due minuti inizia a palparsi a ripetizione il seno, probabilmente controllando se abbia dei noduli. Mi viene quasi da pensare che potesse essere una campagna di sensibilizzazione inserita a buffo in questo anime, ma dubito fortemente. Contra l'altro in sottofondo una delle soundtrack più sbagliate con questa incredibile chitarra elettrica mentre lei continua a palparsi. In tutto ciò col cane, chiaramente depresso, che prima era fradicio dall'acquazzone e adesso comunque continua a essere bagnato, obbligato a continuare a guardarla mentre si tocca. Sembra quasi una nuova pratica erotica, non so neanche se definirla vuayerismo, ma comunque non mi aggrada più di tanto. Questi sono i primi tratti che delineano la figura alquanto malata, la personalità deviata della nostra protagonista, che si fa prendere pochi secondi dopo da una specie di epilessia acquatica, con questi frame che vengono ripetuti più e più volte, che sono stranamente fluidi, e che mostrano la sua, perdonatemi il gergo tecnico-tattico, pazzaria bella. Mi ricorda veramente quei pazzi, o soprattutto quelle pazze, che trattano i cani come se fossero dei bambini o dei figli. Voglio dire, mi piacciono gli animali, adoro i cani, sono team dog, apprezzando Yask in particolare, ma in generale tutti i cani e i gatti. Trattiamoli con rispetto, rispettando la loro natura e non agghindandoli con vestiti che sembrano quasi dei papponi, membri della famiglia sicuramente, ma non come esseri umani in quanto tali, perché così non li eleviamo, ma semplicemente creiamo delle figure subumane. Abbiamo poi, per non farci mancare niente, un mega zoom sulla bocca della protagonista con questo dentino marcio, solo uno, due, erano troppi, e parte la scena su cui diversi giapponesi si papperanno per settimane. La cagna, sì perché Karen è una cagna, inizia a leccare e mordicchiare il naso del cane. E questa scena mi ha dato da pensare, ma i cani, secondo voi, hanno le caccole? Io non lo so, non so se ci sono studi in meito o se la cosa è stata verificata, ma credo proprio che Karen lo sappia. Se stavate mangiando, guardando questo video, tasty! La madre di Karen, tipica mamma degli anime estremamente giovane, che quindi, come dobbiamo definirla, una Karen al quadrato, chiede alla figlia se il cucciolo che ha trovato, sappia comunque fare qualche giochetto, sappia seguire qualche ordine. Lei prima dice, ma mamma, è solo un cucciolo, però poi non si sa perché, o meglio si sa come, perché è bipolare, perché è pazza, perché Split le fa un baffo, si chiude nell'altra stanza e inizia a dare ordine al cane per vedere se effettivamente possa insegnarglieli e capisce che forzandolo può farlo sedere o può farsi dare la zampa. Il protagonista a sua volta è un idiota perché lui stesso dice, se inizierò a seguire gli ordini di Karen vorrà dire che sarò diventato un cane a tutti gli effetti, ma nel giro di 10 secondi le dà subito la zampa. Quindi un perfetto simp a 4 zampe. Anche se più o meno tutti i simp sono a 4 zampe, però qui letteralmente. Comunque, tornando alla scena precedente, mi viene proprio da pensare che la madre sia una scienziata quanto la figlia per chiederle se un cane randaggio appena trovato, che per di più è pure piccolo e un cucciolo, possa rispettare gli ordini come se fosse un cane addestrato, cioè veramente scontro tra luminari. E come chiudere indegnamente un indegno primo episodio? Karen decide di chiamare il cane tra tutti i nomi possibili e immaginabili in lingua giapponese, in qualunque altra lingua del mondo, in lingue aliene, in versi, in onomatopee, in rutti, in suoni, poteva scegliere qualunque tipo di linguaggio, python 32, c++, java, anche da programmatore, no? Lo chiama Pocita. Ora, non so se sia stata una trovata di marketing a dir poco indegna della serie, ehi, magari chiamandolo Pocita, le persone cercando Chainsaw Man per sbaglio vanno a finire su questo nostro anime, dubito. Forse era per fare un elogio all'autore di Chainsaw Man o al personaggio del cane motosega? Dubito anche qui. Credo che la cheat sia volontaria, non prendiamoci per il culo. Era necessario? Non credo proprio. Voi che ne pensate di questo coso? Io sono alquanto interdetto, ma voglio continuarlo quantomeno per raggiungere il punto in cui comparirà la waifu bionda per vedere se è una tipa più o meno normale, o se anche lei è deviata e quindi si potrà completamente droppare. Io ringrazio tutti i miei mecenati che mi supportano su Patreon, permettendomi di portare non solo questa tipologia di video, ma una serie di contenuti. Noi ci vediamo sempre su YouTube con altri video sugli anime stagionali e non solo su Twitch dove streamo regolarmente. Un ultimo appello finale per rendere questo video socialmente utile. Se trovaste un cagnolino per strada e decideste di accudirlo, mi raccomando, trattatelo bene e non azzardatevi a leccargli il naso. Un saluto.